oh buonasera buonasera poco prima di collegarmi mentre appunto stavo così aspettando che finisse il countdown mi è tornato in mente che in realtà forse più di 20 23 anni fa sì 23 anni fa fu invitato da un conoscente ad assistere una presentazione come questa non era ovviamente con le moderne tecnologie che abbiamo oggi a disposizione questi collegamenti questi collegamenti in webinar ma era una presentazione diciamo di quelle tradizionali quindi nello specifico era una piccola sala di un piccolissimo hotel della mia città e il il relatore che iniziò appunto a introdurre l'azienda introdurre i prodotti introdusse poi il sistema questo sistema di marketing questa questa idea di vendita no e quindi iniziò e ovviamente non c'erano ancora queste queste tecnologie come ad esempio le slide powerpoint ma c'era una semplice lavagna bianca dove lui con il pennarello incominciò a disegnare questi cerchi per far comprendere come si poteva sviluppare una rete commerciale al termine diciamo della riunione tornai a casa e incominciai a ripensare a tutto quello che era che era successo durante quella riunione quindi devo dire che pur essendo un'azienda assolutamente moderna una di queste aziende americane che quindi erano molto all'avanguardia sulla tecnologia dei prodotti naturali prodotti erano sicuramente fantastici ma devo dire che la cosa che mi colpì di più fu proprio l'idea economica cioè l'idea appunto di come sviluppare quel business perché la novità stava proprio lì cioè stava proprio nel fatto che in realtà era qualche cosa di assolutamente straordinario di qualcosa di effettivamente finalmente di logico qualcosa che poteva in realtà funzionare e quindi devo dire che mi ricordo ancora quella notte che rimasi assolutamente sveglio a guardare il soffitto e a ripensare a ripensare a ripensare praticamente alle parole di quel relatore e quindi da lì poi devo dire che nei giorni successivi è iniziato il mio viaggio nel in questo meraviglioso e fantastico mondo del multilevel network marketing e questo viaggio è ancora continua io diciamo ho comunato poi questi questi due aspetti questi due elementi cioè la passione per quello che si fa con essere focalizzati nel raggiungere un obiettivo e questo diciamo che è stato sempre il il mood come si dice no che mi ha portato avanti in questo in questo viaggio che è un viaggio meraviglioso e tutto è iniziato proprio da qui cioè come utilizzando e consigliando dei prodotti per il benessere di uso quotidiano puoi ottenere dei guadagni io sono giuseppe girlando country manager della dixen italy filiale italiana della dixen international sono con la dixen dal 2014 primo mi sono occupato di impresa personale e ancora prima appunto ho iniziato questo questo viaggio eh nel mondo del del multilevel che io non ho mai abbandonato quando ho incontrato questa azienda ho conosciuto questo signore che è l'imsio jin fondatore e presidente della dixen e ho veramente avuto la conferma che quel viaggio che avevo iniziato tanti anni fa era la conferma che effettivamente non ero solo a fare questo viaggio che c'erano state altre persone come me che avevamo avuto una visione una visione forte con questa visione nello specifico del nostro fondatore e presidente è quella di promuovere salute benessere e felicità perché questi questi tre elementi molto importanti perché se noi ci sentiamo in salute automaticamente noi abbiamo una visione diversa e abbiamo una prospettiva diversa no di quello che effettivamente sono le nostre opportunità il fatto di stare in salute ci dà un benessere fisico che è accompagnato appunto a un'idea commerciale fantastica ci dà un benessere economico e quindi questo benessere economico ovviamente fa rendere felici noi e fa rendere soprattutto felici tutte le persone che ci circondano e che noi abbiamo coinvolto in questo in questo viaggio e quindi chiaramente ecco diciamo la dinamica è come si collegano eh questi tre elementi salute benessere e felicità perché sostanzialmente quello che ci interessa eh comunque essere indipendenti essere liberi liberi finanziariamente sappiamo che oggi ahimè volendo diciamo la parte strettamente economica è una parte che ci condiziona e comunque eh il fatto di poter avere l'opportunità di avere delle chance di raggiungere un'indipendenza economica un'indipendenza finanziaria che ci permetta effettivamente di lavorare con chi vogliamo noi di lavorare quando vogliamo noi di lavorare dove vogliamo noi cioè possiamo anche scegliere il posto dove lavorare sicuramente è un ottimo è un'ottima motivazione quella appunto quella motivazione che a me ha spinto a entrare nel multilevel network marketing. Questi sono alcuni dei eh diciamo dei riconoscimenti che ha avuto il nostro presidente perché lui si è sempre impegnato sia a livello diciamo di ricerca e sviluppo su nuove fonti di alimentazione, su nuove fonti di supplementazione ma anche diciamo con queste brillanti idee eh di business e quindi l'hanno portato oggi ad essere uno dei le persone più eh influenti nel mondo asiatico e questo diciamo eh ci garantisce a noi la solidità dell'azienda con la quale eh operiamo. Non ultima il nostro presidente è stato nominato ambasciatore di buona speranza dall'Unicef perché insieme a tutti i tredici milioni di distributori della Dixenne si è impegnato a donare tonnellate e tonnellate di spirulina a bambini malnutriti in particolare in Kenya, Malesia e India e questo diciamo che è un impegno che sta portando avanti la Dixenne, il nostro presidente insieme a tutti i distributori eh della Dixenne che mensilmente eh levano una parte dei loro guadagni per donarla appunto a questa eh questa operazione così importante di donazione. Questi sono alcuni dei nostri stabilimenti quelli più importanti e questa diciamo che è una grossa eh differenziazione no? Che ci stacca completamente dai nostri concorrenti perché? Perché per noi è stato sempre importante quasi eh fondamentale eh il fatto di essere coltivatori e produttori cioè noi non dipendiamo da terzi per le materie prime questo specifico per i prodotti naturali per le erbe, per i funghi e per tutte le altre eh tutti gli altri prodotti della natura che poi trasformiamo. Noi ci siamo sempre impegnati alla coltivazione in prima persona, alla ricerca in prima persona e quindi da qui siamo partiti col nostro impianto eh storico in Malesia a nella regione del Kedà all'Ossetare nel particolare dove appunto noi lì facciamo la coltivazione della spirulina, del Ganoderma eh del Noni e di tanti altri prodotti che oggi sono in commercio. Poi quattro anni fa abbiamo inaugurato lo stabilimento in Cina eh nella regione del Ningxia confine con la Mongolia e anche lì diciamo c'è la coltivazione massiva di un altro fungo che è molto importante che è l'ericium Marinaceus. Poi abbiamo completato i lavori in India, i Derabad. Eh questo questo impianto pensate che è stato quasi pensato esclusivamente per il mercato indiano perché sappiamo che il mercato indiano conta miliardi di persone e quindi ovviamente avevamo bisogno diciamo di essere presenti lì sul territorio. Abbiamo iniziato i lavori nel anche negli Emirati Arabi dove il governo eh degli Emirati ci ha donato appunto questi questi terreni dove noi appunto abbiamo iniziato anche lì eh la eh costruzione di quest'ulteriore ed ennesimo stabilimento. Non dobbiamo dimenticare ovviamente gli stabilimenti presenti in Indonesia, in Filippine, Messico. Quindi come vedete per noi è stato sempre importante e fondamentale il fatto di essere eh produttori cioè di non dipendere assolutamente da terzi eh nella eh produzione eh dei prodotti. Questo perché? Perché innanzitutto ci garantisce di avere sempre dei quantitativi eh importanti per le nostre materie prime e poi soprattutto di essere eh responsabili della qualità dei nostri eh prodotti. Dixen è anche diversificato. Abbiamo eh finito i lavori di Dixen Sieberville che è diventato il nostro quartier generale a 40 minuti circa, 30 minuti circa di macchina da sud di Kuala Lumpur che è la capitale della Malesia quindi lì è stato fatto questo centro eh enorme della Dixen dove ci sono appartamenti residenziali, grandissime sale per eventi e tutti gli uffici operativi e direzionali e di alta direzione della Dixen. Abbiamo poi eh rilevato dei resort eh in particolare questo a Penang che è una città turistica della Malesia eh questo resort appunto che ha la tipicità di essere completamente all'interno di una foresta e quindi a contatto diretto della natura perché nel nostro appunto eh dentro di noi c'è sempre vivo questo discorso di essere a contatto con elementi naturali a contatto diciamo con elementi eh spontanei. Eh Dixen è un'azienda di multi-level network marketing, ne ho parlato nella mia introduzione, questo sistema rivoluzionario che è partito tantissimi anni fa quindi ormai è consolidato l'industria del multi-level è una delle poche industrie che eh continua a crescere eh con dei numeri importanti a due cifre eh in percentuale ogni ogni anno che conta milioni e milioni di incaricati di vendita in in tutto il mondo. Grazie a questo sistema la Dixen è cresciuta eh in maniera esponenziale e quindi noi nel duemiladiciotto abbiamo raggiunto il quindicesimo posto fra le prime cento aziende di vendita diretta e multi-level nel mondo andando a eh superare oltre uno punto venticinque miliardi eh di dollari di eh fatturato. Questo diciamo è dato a la passione del nostro presidente, alla passione eh di tutti i nostri distributori indipendenti, di tutto il nostro management ma anche soprattutto a dei concetti che sono dei concetti ferrei, dei concetti che noi non abbiamo mai abbandonato e cioè primo fra tutti che la nostra è un'azienda verticalmente integrata. Noi seguiamo il processo a trecentosessanta gradi, questo ritorna con quello che vi stavo appunto accennando in precedenza sul discorso eh appunto del fatto di essere responsabili di quello che commercializziamo, quindi di essere produttori innanzitutto, coltivatori e quindi produttori. Eh quindi tutti questi processi diciamo vengono seguiti da noi e ci vengono certificati da eh aziende internazionali che ne vanno a testare diciamo la eh validità. Un altro dei concetti è che eh il concetto del one world one market, questo concetto di eh globalizzazione, di espansione, cioè ogni nostro incaricato, ogni nostro membro, ogni nostro distributore indipendente della DZN con il codice che acquisisce può andare a operare, quindi può andare a aprire delle reti di vendita in quei eh centottanta paesi dove è presente la DZN. Quindi non si è eh non ci si è costretti diciamo a rimanere nel proprio orticello, ma si può effettivamente espandere la propria eh la propria attività. E poi One Mind, l'ultimo, importantissimo, e cioè l'azienda e i distributori sono sempre costantemente focalizzati esclusivamente sulla promozione della salute e del benessere in tutto il mondo. Per noi questo qui è il concetto primario, noi non vendiamo prodotti, noi non vendiamo idee di business, noi vendiamo uno stile di vita, uno stile di vita che è fatto da una salamentazione, da uno stile di vita sano, esercizio fisico, esercizio della mente. Eh e quindi è questo diciamo il eh il motore che porta avanti eh la nostra eh la nostra ZN in maniera sinergica. Noi dobbiamo il nostro successo a questo fungo, il Ganoderma lucidum, o conosciuto anche come Reishi o come Linzi, come lo chiamano i cinesi. Fungo che viene utilizzato da migliaia, migliaia di anni in Asia, in particolare nella medicina tradizionale cinese. Eh viene anche definito il fungo dell'immortalità perché ha delle particolarità e delle specificità importantissime. voi qui vedete diciamo eh tanti aspetti che eh il Ganoderma eh contribuisce ad aiutare il nostro corpo ma principalmente il Ganoderma che cosa fa? Il suo la sua attività eh grazie a una percentuale altissima nel nostro Ganoderma di polisaccaridi disintossica le cellule, disintossica l'organismo e contemporaneamente ossigena le cellule. Quindi questo lavoro sinergico di pulizia delle cellule e ossigenazione delle cellule fa sì che eh noi riusciamo a combattere tutta una serie di patologie più o meno importanti grazie proprio all'azione terapeutica di questo fungo e quindi conseguentemente contrasta lo stress, migliora la qualità del sonno, migliora la circolazione del sangue, rafforza il sistema immunitario, riduce il colesterolo, contrasta le allergie ma questo diciamo che è tutta la conseguenza di questa attività di scambio di pulizia delle cellule e ossigenazione delle cellule. Quindi non fa altro che eh aumentare, arricchire un processo che già in natura esiste eh di per sé. Queste sono alcune fasi della nostra lavorazione nell'impianto nello specifico in Malesia e quindi come vedete noi coltivati, l'immagine che vedete in alto, la seconda da destra, noi utilizziamo una coltivazione idroponica, questo ci garantisce un'assoluta salubrità del della crescita del del fungo. Quindi noi prendiamo dei sacchetti di 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 polipropilene biodegradabile eh li riempiamo i nostri operai, quindi la nostra è un'attività dovete pensare altamente tecnologica ma parte con un'attività puramente artigianale, quindi noi abbiamo i nostri uomini e le nostre donne che manualmente riempiono ogni giorno migliaia e migliaia di sacchetti di questo polipropilene biodegradabile di mh pulpa di riso e secatura dell'albero della gomma. Poi vengono successivamente arricchiti con più di ventuno minerali, vengono quindi messi in quest'autoclave per essere sterilizzati e quindi successivamente vengono posti in serre eh dove vengono appesi e quindi altri nostri uomini eh quotidianamente eh diverse ore del giorno li vanno a spostare, queste sono appunto le immagini eh di questi di questa coltivazione idroponica, queste immagini che vedete alle mie spalle. Quindi li vanno a spostare, queste serre hanno una temperatura e eh dell'acqua eh costantemente utilizzata proprio per risimulare le condizioni naturali della crescita del fungo stesso. A novanta giorni quando il ganoderma eh raggiunge questa colorazione rossa viene viene raccolto. Perché novanta giorni? Perché a novanta giorni dopo molti studi i nostri scienziati hanno valutato che c'è l'espressione massima di tutte le componenti nutritive del ganoderma. Prima a 14 giorni con una eh coltivazione separata raccogliamo le radici quindi il eh il micelio. La parte, questa diciamo che è stata una parte importante, la parte della coltivazione è sicuramente una parte importante perché è la parte iniziale. Ma la parte dove effettivamente eh ci ha dato successi e ci ha fatto riconoscere che il nostro ganoderma è il migliore nel mondo è il processo di estrazione. Noi utilizziamo un processo di estrazione a freddo, a differenza dai nostri concorrenti che utilizzano un processo a caldo. Il caldo abbiamo visto che va a inficiare tutte le proprietà nutritive. Noi facciamo una un lavoro a freddo che è molto più lungo, è molto più complesso perché è fatto in più fasi, è fatto in sette fasi, pensate. Quindi noi sostanzialmente attraverso una serie di eh filtri andiamo a eh estrarre e creare diciamo questa questa polvere di ganoderma in sette fasi appunto successive con sette brevetti depositati eh dalla TXN. E voi immaginate che praticamente questo processo implica che noi andiamo a utilizzare venti chili di eh materia prima quindi eh di funghi eh per utilizzare un chilo solo. Considerate che la parte diciamo eh la prassi che viene utilizzata da parte di altre aziende è il rapporto di tre a uno cioè utilizzare tre chili di materia prima per avere un eh chilo di eh polvere concentrata. Ma direi che tre a uno è veramente il il minimo sindacale. Qualcuno diciamo che lo fa un pochino meglio fa un rapporto di sette a uno quindi sette chili per avere un chilo di concentrato. Noi addirittura facciamo venti chili per avere un chilo di concentrato. Quindi immaginate voi che tipo di concentrazione possiamo avere. E questo appunto ci viene poi dalle analisi che ci dice che noi abbiamo una percentuale che sfiora il settanta per cento di polisaccaridi e quasi il cinquantasette cinquantotto per cento di beta culcani perché noi utilizziamo tutto il frutto del eh del fungo stesso. Successivamente separiamo le fibre quindi il ganoderma essiccato viene polverizzato e vengono separate le fibre con un basso eh contenuto terapeutico. Poi trattiamo tutto con raggi ultravioletti per aumentare l'effetto eh terapeutico e quindi con un ulteriore brevetto depositato della Dixenne con un processo che noi chiamiamo di micropolverizzazione separiamo le spore le micronizziamo appunto con questo eh brevetto unico eh della Dixenne ed è grazie a tutte queste fasi che noi possiamo lasciare assolutamente inalterate tutte le proprietà attive del eh canoderma stesso. Ma perché scegliere Dixenne? Dixenne è un'azienda stabile. Noi il prossimo anno andremo a festeggiare appunto i trent'anni di storia quindi trent'anni più di un quarto di secolo. Eh ci viene riconosciuto questo da come ho detto da certificati da organi eh istituzionali, il Ministero della Salute australiano, il Ministero della Salute malese, certificati, bio, loiz e quant'altro insomma che vanno a testare appunto la qualità del prodotto ma non solo, anche la qualità dei processi produttivi. Sono dei prodotti fantastici, prodotti per il benessere di uso quotidiano e questo è molto importante per chi si vuole avvicinare a noi come partner commerciale perché fatto di trattare dei prodotti che vengono che hanno un'altissima incidenza di fidelizzazione, che vengono ordinati, vengono consumati e vengono riordinati, ovviamente questo crea un processo eh di eh volume d'affari costantemente in crescita e che genera altissime prodigioni. Sono abbiamo detto prodotti bio eh sono prodotti di consumo accessibili a tutti. I nostri prezzi sono dei prezzi medi, dei stessi prezzi che voi potete trovare su internet parlando di prodotti di qualità, in farmacia, in erbolisteria. Questo perché? Perché noi ovviamente essendo produttori possiamo avere eh la possibilità di mantenere dei prezzi accessibili a tutti. Parlando di opportunità vedrete che c'è un costo irrisorio quasi ininfluente per poter entrare come partner commerciale ma questo non significa che allora il prezzo basso determina eh un'azienda poco importante. No, è perché noi lasciamo la possibilità a ognuno di scegliere dove partire. Quindi può partire con zero, può partire con cento, può partire con mille, può partire con diecimila. Noi non creiamo forzature perché siamo sicuri del nostro prodotto, siamo sicuri della nostra idea commerciale. Quindi lasciamo che siano gli altri, i nostri partner, a scegliere come partire. Il nostro è un piano dei compensi molto semplice eh ma eh altrettanto remunerativo e noi abbiamo tra i bonus più alti eh del mercato. Una percentuale veramente molto importante. Una percentuale veramente importante determinata anche dalla condivisione degli utili reali dell'azienda. Quindi quando noi diciamo che abbiamo dei soci consumatori, cioè dei soci all'interno della nostra azienda è vero perché una parte di loro, una parte di essi entra proprio nella condivisione degli utili eh dell'azienda, della Dixen. Vediamo adesso i mercati e i prodotti che noi trattiamo in maniera molto veloce. Innanzitutto siamo inseriti nel settore delle bevande perché sappiamo tutti quanti che il settore dei succhi delle bevande è il settore dove c'è maggiore domanda eh nel mercato e quindi qui siamo presenti con una eh serie importante di caffè solubili con aggiunta di ganodermo di altri funghi. Questo perché noi non abbiamo mai abbandonato il nostro principio di condividere salute e benessere in tutto il mondo. Quindi per noi anche un caffè è importante che all'interno ci sia un elemento eh di integrazione, un elemento importante eh che eh sia rivolto al benessere fisico. Quindi abbiamo una serie di caffè, di cioccolato, di tè a base di ganoderma ma anche a base di altri funghi. Abbiamo il succo del noni che è un potentissimo antiossidante, combatte radicali liberi. Abbiamo il cordipine che è eh succo di ananas fermentato con aggiunta di cordiceps che è un altro fungo molto importante che dà energia e in particolare questo succo eh va a lavorare sul nostro colon e quindi a pulire diciamo in maniera eh profonda eh tutto il nostro intestino. Questo ovviamente per andare a eliminare completamente o a diminuire possibilità di eh malattie appunto al al colon stesso. Ma non solo. Ne abbiamo tantissimi diciamo di di prodotti che vanno bene per tutti. Anche per i bambini come ad esempio il cioccolato con aggiunta di ganoderma. Poi abbiamo la serie degli integratori, quindi qui integratori a base di ganoderma che si suddivide fra frutto del 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 fungo, quindi corpo del fungo che serve per disintossicare e le radici del fungo, il micelio che servono per rinforzare il sistema immunitario. La spirulina, quest'alga fantastica, quest'orchestra alimentare ricchissima anche di proteine vegetali eh ma veramente con all'interno tanti di quelle vitamine minerali che in realtà diventa diciamo un alimento completo. Poi abbiamo altri funghi come il cordiceps e le ricium marinacius. Abbiamo introdotto ultimamente anche qualche cosa per il cuore come ad esempio il riso rosso fermentato dove il principio attivo è la monocolina K che è una statina naturale. Quindi anche lì diciamo abbiamo eh abbiamo eh un grosso un grosso eh mercato. Poi abbiamo tutti i prodotti che vanno bene per l'igiene personale per la nostra pelle sempre a base di ganoderma quindi il sapone, il dentifricio, lo shampoo, l'olio per i massaggi e tante e altre cose. Quindi prodotti che voi normalmente acquistate in maniera commerciale o in ervoristeria qui diciamo abbiamo dei prodotti di altissima eh qualità che vanno a eh appunto a penetrare nel nostro corpo in maniera specifica in maniera importante. Poi eh abbiamo qui ad esempio il ehm tutta la linea anche di cosmesi eh quindi abbiamo questa parte diciamo della cosmesi che è molto importante sempre a base di prodotti naturali quindi qui abbiamo il eh la presenza del tartufo, della spirulina e anche qui del eh ganoderma eh del ganoderma stesso. Ora vediamo appunto le possibilità di eh di guadagno con eh la Dixene. La Dixene ci eh dice che abbiamo dieci possibilità di guadagno. Andiamo a vederle adesso una per una ma prima cerchiamo di comprendere come lavora il nostro piano marketing. Il nostro piano marketing lavora sul reddito residuo. Che cosa significa? Significa che per noi non è importante avere poche persone che fanno tantissimi acquisti ma è anzi il contrario avere tantissime persone che acquistano eh un piccolo eh quantitativo di eh prodotti personali al mese e questo va a generare lavorando proprio sul reddito residuo va a lavorare appunto delle eh va a determinare delle dei bonus e delle profissioni molto alte. Eh il punteggio come vedete è molto semplice perché per essere diciamo qualificati e quindi essere pronti a ricevere i bonus sugli acquisti personali e sugli acquisti eh di tutte le persone che si è inseriti nella rete è sufficiente fare questi famosi cento punti al mese che è il punto di patenza ovviamente non è il punto di arrivo. Con questi cento punti però si è abilitati, si è qualificati a prendere eh le commissioni. Cento punti sono meno di cento euro di eh prodotti e quindi da lì diciamo si può partire. Poi eh che cosa bisogna fare? Bisogna cercare praticamente di eh aiutare le persone che ci hanno dato fiducia che sono entrate nella nostra organizzazione a fare quello che abbiamo fatto noi e quindi più loro crescono automaticamente ci spingono a crescere anche a noi e quindi noi chiaramente andiamo a raggiungere delle posizioni sempre eh più importanti. Scusate sono andato indietro ma volevo andare avanti. Ok. Quindi iniziamo a vedere quali sono queste dieci possibilità di guadagno. Prima fra tutte la differenza fra eh prezzo riservato al distributore della DXN e prezzo riservato al pubblico. Questo è circa il trenta per cento. Quindi questa è la prima nostra fonte di guadagno. Perché direte voi? Perché è ovvio che io per far conoscere la DXN, per far conoscere eh quello che sto facendo, l'elemento più importante è far conoscere i prodotti. Perché il prodotto ci aiuta praticamente a eh farci conoscere e a iscrivere le persone. Perché il prodotto ha un'efficacia immediata eh e quindi quando le persone vedono che il prodotto funziona e che quindi non è fuffa ovviamente prendono fiducia, ci chiedono altro prodotto, si sentono diciamo eh nella possibilità di poter spendere eh la loro immagine, le loro parole per questo prodotto perché si sono resi conto che funziona. E quindi da qui arrivano i nostri primi guadagni, cioè fra eh la differenza del eh prezzo che paghiamo noi e di quello che paga invece l'utente finale. Ma eh qual è l'aspetto piacevole di tutta questa vicenda? Che di tutte le cose antipatiche ce ne occupiamo noi, cioè se ne occupa l'azienda, cioè quindi noi facciamo, importiamo la merce, facciamo autorizzare la merce, eh importiamo appunto la merce, paghiamo le spese di trasporto, facciamo magazzino, ci occupiamo di prendere l'ordine, di mandare via la merce, di chiamare i corrieri, di incassare, insomma tutto l'aspetto diciamo logistico e amministrativo ce ne occupiamo noi come DXN. Voi in realtà dovete semplicemente far conoscere questi prodotti, parlare il più possibile, fare public relation. Ma tutto l'aspetto, ripeto, poi pesante, no? Che è quello diciamo meno eh motivazionale, ovviamente viene delegato alla eh alla DXN. Come si cresce? Si cresce con l'accumulo dei punti, quindi noi grazie ai nostri acquisti personali e agli acquisti che hanno fatto le persone che noi abbiamo eh sponsorizzato, che abbiamo iscritto, noi accumuliamo dei punti. E questa è un'altra peculiarità della DXN, a differenza delle altre aziende, che i punti in DXN non si perdono mai. In altre aziende voi vedrete che per poter salire di qualifica, quindi prendere una percentuale maggiore, avete tempo un mese o due mesi per poter raggiungere diciamo quel quell'obiettivo. In DXN no, in DXN grazie diciamo a questo accumulo dei punti voi prima o poi raggiungerete praticamente la percentuale intermedia del ventuno per cento, quindi si parte con cento punti che proprio la parte base avendo una commissione del sei per cento, per arrivare poi grazie all'accumulo dei punti, ripeto, sugli acquisti personali e sugli acquisti delle persone che noi abbiamo iscritto, si arriva al ventuno per cento. E questo è bellissimo perché sostanzialmente questi punti non te li porterà mai via nessuno e quindi tutti quanti, prima o poi, chi prima, chi dopo, arriveranno alla posizione di star agent che è il primo, primo step nel nostro piano di carriera. Questo è proprio l'esempio di quello che accade, no? Quindi io mi iscrivo, faccio i miei primi cento punti, faccio conoscere i prodotti, iscrivo altre due persone, a loro volta loro fanno il loro primo acquisto personale di cento punti e quindi io il primo mese ho accumulato 300 punti e ho diritto al nove per cento. Secondo mese io iscrivo un'altra persona, i miei primi due iscritti iscrivono altre persone e quindi tutti quanti, cioè io personalmente, arrivo ad accumulare 900 punti e ho diritto al dodici per cento. Poi la faccio breve, arrivo al quarto mese, ho accumulato 4.500 punti, ma questo grazie a che cosa? Non perché mi sono comprato 4.000 punti di prodotti personali, ma perché grazie all'effetto della duplicazione, a quei famosi cerchi che vi raccontavo all'inizio, che mi colpirono 23 anni fa, grazie alla duplicazione che è l'elemento, diciamo, dirompente del multilevel network marketing. Io arrivo ad aver accumulato 4.500 punti, quindi ho diritto alla qualifica di star agente, ma soprattutto ho diritto al 25 per cento di commissione. Quindi vi ricordate, io sono partito il primo mese con il 9 per cento per arrivare al quarto mese, e questa è la consuetudine, al 25 per cento. Poi ho il bonus di gruppo star, quindi ovviamente io sono diventato star agente, perché ho accumulato 4.500 punti, sono arrivato al 25 per cento, e quindi da qui, se vi ricordate quello che vi avevo detto, il nostro piano dei compensi è molto semplice, che cosa faccio? Incomincio a lavorare sui miei iscritti, quindi cerco di farli crescere, e quindi incomincio a individuare uno di loro che è, diciamo, sta avanti con i punti, che è una persona che ci mette molta passione, e quindi lo aiuto a diventare star agente anch'esso. E quindi a quel punto io nella mia organizzazione ho uno star agente qualificato. Quel punto passo dal 25 al 27 per cento. Poi ne individuo un altro che ha delle capacità, che ha già raggiunto quasi 4.500 punti, e quindi lo aiuto a diventare star agente. Magari non c'è bisogno di farlo diventare, di aiutarlo, magari già lui ha capito da solo, ha un gruppetto di persone e va avanti in maniera autonoma. E quindi ne ho due nella mia organizzazione di star agente qualificati, io automaticamente passo al 29, ne faccio tre, passo al 31 e divento rubino star rubi. Vado avanti sempre con questo processo, con quattro star agente qualificati ho diritto al 33 per cento, con cinque ho diritto al 35 per cento, con sei ho diritto al 37 per cento e divento leader del mio gruppo, quindi Star Diamond. Ma oltre, diciamo, a questa, a queste percentuali che aumentano, ogni mese la DXN, siccome vede che sto facendo un'attività di formazione, di supporto e di quant'altro, mi da, mi da, mi concede il bonus gruppo star, quindi un bonus di sviluppo che va dal cinque per cento per le persone direttamente sponsorizzate da me, fino all'un per cento alla quinta generazione, quindi a chi sta praticamente, gerarchicamente, alla quinta posizione nella mia struttura. Cumulativamente, questo 1 e 5 per cento danno diritto a un 15 per cento cumulativo. Ecco, qui vedete esattamente questo bonus di sviluppo, come viene evidenziato, come viene splittato, quindi ho il primo livello, praticamente, ho diritto al cinque per cento, poi al terzo livello, al quarto, al secondo livello, al quattro, al tre, due, uno, e quindi un cumulativo del quindici per cento. Poi che cosa faccio? Non faccio altro che andare avanti e ho diritto al bonus leadership, perché io sono diventato Star Diamond, con sei star agente qualificati, e quindi anche qui la DXN evita un altro incentivo, che è l'incentivo della leadership, che segue sempre lo stesso principio di prima, quindi che va dal cinque per cento per tutti quelli che sono stati inscritti direttamente da me, personalmente da me, e quindi stanno in prima generazione, come viene comunemente detto, al primo livello, per arrivare all'un per cento per quelli che stanno invece al quinto livello o quinta generazione. E poi, per raggiungere la posizione più alta in DXN, che è quella di Corona Ambasciatore, non devo far altro che fare quello che ho fatto all'inizio, far crescere i miei collaboratori. e quindi come sviluppo, come aiuto uno dei miei collaboratori a diventare Star Diamond, io divento executive Star Diamond. Come ne faccio quattro, divento doppio damante, ne faccio dieci, divento Crown Diamond, ne faccio venti e divento Corona Ambasciatore. Quindi lì praticamente ho raggiunto il piano più alto della carriera in questo momento in DXN e ho una posizione, diciamo, di assoluto prestigio di leader nel mondo di DXN, nella famiglia, nella famiglia appunto di DXN. Poi ho ulteriori incentivi che sono dati dal due per cento di condivisione degli utili reali dell'azienda, che viene distribuito a tutte le posizioni Star Diamond nel mondo, qualificate. Poi ho un incentivo per fare un viaggio con l'azienda e il prossimo anno, questo viaggio è stato organizzato appunto nel 2023, si andrà appunto a festeggiare il trentesimo anniversario della DXN in Malesia. Quindi, come vedete, sono sempre viaggi molto importanti, viaggi esotici, viaggi di altissimo livello, dove appunto si va a fare anche formazione, si fanno anche dei camp, ma anche e soprattutto si conoscono, si conosce il presidente e tutti i leader internazionali della DXN. Poi c'è un incentivo in denaro per acquistare un cellulare e un incentivo in denaro per fare un viaggio all'estero, solitamente per andare a visitare le piantagioni. Quindi, riassumendo, noi abbiamo detto che abbiamo un profitto per vendita accreditata che va dal 15% al 25%, un bonus del 76%, un incentivo in denaro di 1150 euro, perché se noi andiamo a cumulare praticamente tutte le varie percentuali che ci vengono date dal bonus di gruppo, dal bonus di gruppo star, dal bonus di sviluppo, dalla condivisione di profitto internazionale, dal bonus leadership, dal travel seminar incentive, praticamente arriviamo al 76%, quindi possiamo dire con assoluta certezza che siamo i soci di maggioranza della DXN. Nessuna azienda, vi assicuro nessuna azienda, riesce a redistribuire così tanto. Noi ci riusciamo proprio grazie al fatto di essere produttori, quindi noi riusciamo a controllare e a mantenere assolutamente contenuto il costo della materia prima, seppur una materia prima molto importante, perché comunque il ganoderma, la spirulina o tutti gli altri prodotti che noi trattiamo sono comunque prodotti di nicchia, sono prodotti dove c'è tantissimo lavoro dietro, c'è tantissima responsabilità, c'è tantissimo rischio e quindi chiaramente noi grazie a questi investimenti che abbiamo fatto tantissimi anni fa nella coltivazione e nella produzione, possiamo oggi diciamo giocare in maniera positiva su questo aspetto. Come iniziare? Come vi avevo detto, noi lasciamo la discrezionalità a chi entra. E ripeto, il fatto diciamo del costo contenuto non significa che noi dobbiamo dare la giusta importanza. Noi non vogliamo soffocare, non vogliamo in un certo modo strozzare le persone che vogliono entrare, non vogliamo commettere quegli errori che hanno commesso altre aziende dove era il tutto subito. Cioè a me non interessa lavorare sulla persona, ma mi interessa che in quel momento subito mi dà un grosso valore. poi ne cerco un'altra per fare la stessa cosa. No, noi non abbiamo pacchetti, non abbiamo pacchi, non chiediamo alle persone di investire migliaia di euro e riempirsi il salone di casa di prodotti, assolutamente. Loro sono liberissimi di lasciare le loro generalità, già iscrivendosi immediatamente hanno lo sconto, quindi il prezzo riservato alla rete dei distributori, il distributor price, quindi con quel 30% di sconto immediato. Ovviamente finché non fanno i famosi 100 punti che li pongono nella posizione di qualificati, non hanno la possibilità di iscrivere altre persone e quindi di iniziare e di ricevere il bonus. Però comunque già il fatto di iscriversi possono acquistare i prodotti con una percentuale di sconto molto importante. Se poi all'atto dell'iscrizione vogliono comunque fare una piccola prova e fare un minimo acquisto di circa 50 euro, hanno anche l'opportunità per quel primo acquisto di non pagare le spese di spedizione. Altrimenti noi abbiamo anche creato delle soluzioni ad hoc per chi magari ha già una visione diciamo ben chiara di quello che vuole andare a fare. E quindi qui abbiamo creato l'IOC, icing on the cake, che vuol dire la ciliegina sulla torta. Questo è un voucher del valore di 200 euro dove per il primo voucher che si acquista i prodotti sono selezionati dall'azienda, dal secondo voucher in poi i prodotti sono a scelta, quindi potete scegliere quelli che volete. E questo che cos'è? Questo è sostanzialmente una sorta di faster bonus, quindi un piano veloce per poter iscrivere in maniera molto più veloce e per iniziare a guadagnare subito, per accumulare i punti diciamo in maniera più rapida e quindi raggiungere subito le posizioni. È un kit internazionale quindi si può fare in tutti quei paesi dove è stato attivato e ripeto dà un ottimo sistema per promuovere le vendite. Dà anche l'opportunità di non fare ogni mese l'acquisto, quindi è sufficiente farlo la prima volta e poi lasciarlo lì, è come se uno acquistasse delle quote, le lascia decantare diciamo da una parte e aspetta che queste quote crescano nel tempo. È come una sorta di veramente di polizza vita, di polizza assicurativa. Oppure abbiamo un'altra soluzione molto interessante, questa addirittura, mentre la prima, la IOC, è stata ideata dal nostro management, questa invece è venuta, pensate, da uno dei nostri crown ambassador, l'Aslo Coccio, quindi approvata poi ovviamente dall'azienda ma nasce quindi se vogliamo proprio dalla rete. E quindi questa che cosa ha di concetto importante? Win-win. Che cosa significa? Vinco io e vincite. Questo sostanzialmente è dedicato esclusivamente ai nuovi iscritti e hanno tempo 14 giorni per poterlo riscattare e questi sono tre kit con tre valori differenti che danno sostanzialmente l'opportunità di rientrare di tutta la spesa fatta. Quindi questo che cosa significa? Significa che io iscrivo una nuova persona, gli propongo di acquistare ad esempio, poniamo il caso, il kit di SPA che ha 40 prodotti all'interno e organizzo insieme a lui un party in casa. Quindi io acquisto, faccio acquistare diciamo a questo nuovo mio incaricato questo kit e lui paga 700 euro, quindi il prezzo è stato già scontato alla DXN, noi organizziamo il party insieme, in quel momento vendiamo tutti i prodotti, che 40 prodotti diciamo è sufficiente avere una decina di persone che si vendono, quindi vendiamo questi prodotti e immediatamente in quella serata abbiamo guadagnato 196 euro, perché sostanzialmente noi l'abbiamo guadagnato 700 che è lo sconto riservato ai distributori, l'abbiamo venduto a 896 euro e quindi in quel momento abbiamo avuto il nostro guadagno di circa 200 euro in quella serata. Direi già che questo ci fa capire come le possibilità di guadagno siano incredibili. Quindi a quel punto abbiamo già accumulato, pensate, 542 punti e quindi già abbiamo diritto diciamo a una commissione molto importante. Ma non è finita qui, perché la DXN ci dice ok, guarda, io per aiutarti ti sponsorizzo. In che modo? Tu hai pagato questi 40 prodotti che hai già rivenduto a 700 euro, io ti do un valore sconto futuro di 1050 euro, quindi io metto nel tuo portafoglio virtuale 1050 euro di crediti che tu andrai a recuperare con tutti i tuoi acquisti futuri con uno sconto su ogni prodotto del 10 per cento, per un periodo massimo diciamo di quattro anni. Quindi ti do un valore sconto di 150 per cento. La stessa cosa succede se io prendo il kit intermedio del valore di 400 euro, ti do un valore sconto di 521 euro con un valore sconto di 130. E anche per il kit A, il kit C, che è quello diciamo più economico che ha nove prodotti all'interno. Ma ripeto, la particolarità qual è? È che effettivamente si rientra di tutto l'investimento fatto inizialmente. Quindi direi che è veramente qualche cosa di importante dove la DXN fa un enorme sforzo, ma lo fa proprio per aiutare tutti i nuovi iscritti. Quindi ovviamente a chi è già iscritto non c'è la possibilità di acquistare questo pacchetto, ma lo può fare questo kit solo i nuovi iscritti, proprio per dargli questa possibilità di iniziare a guadagnare. Tutte queste stesse informazioni voi le potrete trovare nel nostro canale YouTube di DXN Italy, quindi c'è una presentazione simile a questa, doppiata in italiano, che è la presentazione istituzionale della DXN, quindi la potete anche utilizzare da far vedere a vostri nuovi contatti, o in alternativa, se volete rivedere alcuni passaggi di questa presentazione di questa sera, anche questa domani la troverete registrata sempre nel nostro canale YouTube. Prima di lasciarvi, vi ricordo e vi aspetto tutti quanti lunedì prossimo per il nostro seminario scientifico condotto dalla nostra bravissima Patrizia Barbanti, dove la DXN ha pensato, DXN Italy ha pensato di offrire una soluzione, diciamo, completa, no? Perché molte volte ci dicono, ok, io prendo il ganoderma, come lo devo prendere? Ma poi posso prendere un'altra cosa? Ma poi come lo posso abbinare? Quindi noi abbiamo pensato, diciamo, a questo cerchio della longevità, questo cerchio della salute. Quindi questi sei prodotti che presi insieme possono praticamente dare una soluzione completa per rafforzare il sistema immunitario, come anti-aging, come veramente protezione totale verso tantissime patologie. Abbiamo un po' preso, diciamo, ad esempio quello che viene fatto nel mercato soprattutto arabo, dove hanno il triangolo d'oro, appunto questo triangolo d'oro che è veramente molto efficace, veramente molto apprezzato dai clienti, questo triangolo d'oro che è appunto il ganoderma, la spirulina e il noni, il succo di noni. Noi, diciamo, abbiamo voluto, grazie alla nostra esperienza, arricchirlo con altri prodotti e quindi abbiamo creato praticamente questo cerchio della longevità che siamo assolutamente certi che troverà tantissima risposta positiva da parte dei nostri clienti e dei nostri distributori. Quindi prenotatevi subito per il prossimo webinar, lunedì prossimo 7 febbraio all'ore 21 con la nostra Patrizia Barbanti e la nostra leader italiana Paola Rovelli, conduttrice, che appunto ci presenteranno questa nuovissima soluzione integrativa di prodotti della Dixen. Io vi ringrazio, vi ringrazio della vostra partecipazione, siete stati tantissimi, tantissimi anche sul nostro canale, sulla nostra diretta Facebook e quindi vi aspetto giovedì di questa settimana per la formazione, con la formazione appunto per imprenditori e lunedì prossimo per parlare di prodotti. Grazie ancora e buonanotte a tutti. Grazie a tutti.